bella a tutti ragazzi sono StarskyQQ e finalmente questi due stronzi che vabbè per inizio le 3v3 vai vai mi state accollando vai mi state accollando vai ok basta non vado più ok non vado più io allora vado fk anch'io vado vado vai vado come può Starsky 1,9,3 OP ultimamente sto fida come merda raga vi giuro gioco malissimo ehm almeno fai carino io faccio l'alternative allora vabbè visto che si inizia con 3v3 abbiamo detto che è il modo più semplice per fa gold diamo qualche consiglio ai ragazzi allora i portali si sbloccano banni facciamo un po' di domande tipo scuola scuola diamond scuola diamond 2.30 o 3 non mi ricordo ok è 3 minuti però vabbè sono sul 7 e mezzo adesso nova scuola diamond sempre no? scuola diamond sentiamo fammi pensare una domanda che posso fare quanto durano i portali? dopo quanto si sbloccano quando vengono conquistati? 90 secondi bravissimo bravissimo quindi ricordate vi disegnate quando vengono fregati se vi fregano il portale vabbè oppure c'è scritto in chat esatto tanto più semplice vabbè io voglio far scuola la diamond raga io ho ancora fatto che mi scuola la touch speed scuola diamond se io tiro la E e la fitto un minion con la E mi eri talmana vedi? vedi? dice che gli attari si bloccheranno si si ha 3 minuti ma il fight si è lacherato ho usato tutto buono quindi avrà il flash a 7.30 guys però è buggato sto champion oh oh ho missato oh oh star skis sta arrivando pure io rompi di coglioni no no io volevo fregagliar cosa proviamo più al portale ma guarda che senza com'è messo poverino e zero non neanche ci vede ma ho flashato ma questo è un team nuovo? si ah ecco ho l'indo rosa da Zuzumarzuk il mio sogno è di vederlo dai vabbè ok vabbè vabbè prendo anche il mio portale ricordate che con due portali siete OP perchè perchè vi da bonus tipo 10% dei bonus attack damage e 10% dei bonus AP e prendete più golpe quando ci siete qualcosa e e e e e la madonna oh ma quanto si è preparato Nova mamma mia beh io non sapevo neanche dell'interrogazione è come qualcuno che conosca bravissimo Satori però fa schifo sulla pratica eh io direi che è sempre Nova sei morto Nova ma che stai dicendo a parte che se fa il pollocco C non polli nessuno però morto è morto ma che stai dicendo toglie MDF cioè ti buongiorno arma scusa no si se sta scappando non serve qui i polli tolgono arma questo chase oh bravo è così che voglio il pollo te ne vai che sei morto oddio per quanto mi hanno sottorrettata ah c'è chiaro era tutto calcovato oh cazzo i minion no i minion no i minion no no minion no ok grazie minion io sono salvo sottile perché la vita è ok ma se piove non è ok Starsky lo beido? ci sei? beido fammi farmare manco indietro lo beido bro è importantissimo raggiungerli allo sei a sto in 3v3 ragazzi davvero? si non prendete esempio da Starsky quando viene in duo con lei in duo lane con me che non lo prende mai e perdiamo il game e piange poi inizia a piangere ok quindi a sei minuti e trenta si sblocca ad altare loro eh facciamo per sei minuti e trenta l'ielo sei e ho conquistato guarda i vizi che ci piega a sto pay ma no ma plead poi vedrai in late game le pizze che darà a cazzo pay occhio miss summer fight ah ho capito adesso come funziona ma se io tierless un minion con il veleno mi si resetta anche il cooldown eh non lo sapevi? no mamma mia che bene in champ select sit voglio giocare cassiopeia oh senti vabbè quando mi hai detto vabbè quando mi hai detto vabbè quando mi hai detto banni voglio essere gay non ti ho detto niente ah ok è vero ma te te l'ha chiesto se lo boosti nuova? si eh pure a me eh io ho chiesto se mi boostava lui è stata una domanda reciproca si eh durata giusto un attimo oh mi serve al 6 un attimo oh ok grande e io sto al 4 ancora se vieni bot lo one shot vengo top e lo one shotiamo ah ma pure il top lane sta al 4 quindi c'è un lupo che mi sta one shottando tutto one shotta tutto c'è il loro portale che è stato one shottato aiutatemi al portale no il loro portale che è one shotta al massimo andiamo baschi però veloce eh arrivo c'è la cura dietro di noi la lascio almeno se dobbiamo scappare si si lascio la lascio bella easy easy as fuck mia mia viala viala va lascia lascia sta ma intanto recco tutto di un'accusa oh l'ulti vabbè non posso levare mamma mia non m'ha visto e se prende a te due mazzate intanto gli hai tolto lo scudo eh vabbè se no io te li togliete ma intanto vengo bot oh è stat 6 un mio G eh per uccidere x in zao ma è AP ma che tumore di merda vabbè è AP o è blu no è AP è AP guardiamo che quando il jungle si sta facendo un campo e si avvicini bisogna stigarli è una regola sempre oppure quando qualcuno dice mi servono 100 gold bisogna stigarli tutto no quello no 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 mi ricordo io che ho viaggiato per un'ora c'è xin vicino a bot qua beh vabbè cazzo sa gioca a p ci vado che si mi lascio niente tiè me le magno tutto questo è mettere pressure e poi morire adesso ho capito perché preghiamo sto meno con Malfide non so se ve lo interessa la cosa no no non mi interessa troppo ok c'ho il 6 possiamo fai da è mio ma che? no è mio dai tu Ez era il tuo opponent in fondo no vogliamo vedere come andava eh voleva un assist in retto nero eh sei cassiopeia cassiopeia lasciamela che rimanga a farmare la giungla qua ho fatto un errore che l'avevo dovuta rubare assolutamente assolutamente tu già stai a rischio rischio eliminazione ma no che vuoi? che vuoi? te la deve oh mio dio ti ho rubato anche il creep capisci? oh mio mio salvami ti prego starsky ah salvami ti prego starsky salvami ti prego starsky mi hai prego si l'ho sentito benissimo ok non ruberò più niente ti intera la mia nuova sonneria quando ti giuro la metto questa sonneria al cellulare salvami starsky salvami starsky ti prego se vuoi te lo rifaccio per la sonneria no no così è molto più esatto magari più kawaii oppure più tipo no perché dopo sembra finto invece qua si vede che è proprio reale salvami ti prego mi hai pregato adesso prendo anche gli hp ogni volta che tiro la e vabbè è buggato eh è buggato sto c'è ho comprato i boots al tenero tenero minuto di 10 minuti e 18 oh mio dio ma è assurdo io voglio giocare a castiglia per sempre si se ce vogli magari se vuoi giocare la top eh ma infatti ma come no? ma che fa schifo è master game ma che ti dici? non vuoi fare questo errore eh BOMBASIA no ma dai vaffanculo ma lasciamola una killabani poverino dai diventerà il mio marchio di fabbrica bombasia che bastardo sei girato con un via via ma io ho l'ultimo che mi credo abbeidato il pollo abbeidato il pollo oh hai finito? ma se ma che cazzo state facendo? vabbè dai no ho missato ehm per quanto è l'ultare? help no ahhh io dico di fightare che pezzo di merda che pezzo di... che pezzo di... no io posso tornare a fight ma perchè mi hai lasciato solo banni? perchè fa schifo beh sono ribanni vabbè dico zitto devo fa un bit a sto Ezreal lo so che me brami Ezreal no e no sei un pollo però non hai pollato gli avversari sei un pollo te che stai dicendo pollo me pollo me guarda 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 aia sono morto perchè devo morire? perchè perchè? lascia me sta lol ah 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 perchè devo morire per un pollo? oh te hai fatto la kill l'hai voluta te la kill servo con un pollo vabbè tra l'altro ho buttato un ulti perchè secondo me ce l'avevo in manco il mana per fare la combo poi per uscire al massimo per essere più veloce potei prima mettere lo stentardo ultardo e poi... lo stentardo lo stentardo cos'è come te... te come lo chiamai lo stentardo? stendardo ma no è stentardo dai è tipo una tenda esatto dai muovi dai bollala ma mi dodgia il pollo? vabbè l'ho cut glassato è uguale car glass ripara car glass sostituisci cari 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 Counter jungla da solo Ma chi sei Guardali, guardali che belli C'è l'ultimate? Sì Quello more di minion Vabbè, sei pronto Bombasia Mo' devo unta via Oh Ho capito perché c'ha l'animazione Dice roccioso Ma banni che ci ha fatto un O a caso? Oh, senti, ti reporto, ok Ti reporto Ma perché io vengo odiato? Guarda, guarda, questo sei counter jungla da solo Se lasciai un minion Tu fai schifo A caso Questo se lasciai minion Tu fai schifo Qua, qua, sorpresa Vaglia foto, col flash No, niente Oh Bravo Non so, stato di allastitarlo il carretto L'ho smitato Ho detto già Che c'è uno Trova avversari più forti Guarda, guarda come muore Se muori giuro Se muori giuro è l'ultima 3v3 Faccio con te C'hai l'ultima 3v3? Non ce l'ha Non ce l'hai? No, non ho l'ultima Allora, guarda come si farma Le faccio te C'è scurato Oddio mio Io ho uno lo stars Che sto game Mamma mia che ho rifatto Dai Ci sono Ah, ho l'ulti tra 17 secondi Io devo morire per te Ti rendi conto? Quanto fai schifo? Io lo vedo bene Ho pure usato lo smite su Malfide Per rallentarlo Se no ti riuscire a tirare a Q Guarda, è l'altro Sei morti, eh La foto fatta male Nascita senza flash Cosa? Bam Complimenti Scappa Non puoi fai niente Li fai, li fai Fai io un bait Oddio quell'Elze Quanto mi fa gola Oddio mio Quanto sarebbe bello Urla a Bombasia Su quell'Elze Eh, tanto Guarda, hanno capito Chi è il re? Bombasia E ma pure te Vieni qui Vilemau Fallo tornare dietro Ma ti fa tornare Guarda quanto godo Guarda No, bastardo Di un video No, ho fatto una indietro a me Oh, roccioso Dai, quanto sei starse Non te l'hai cotto Damme la, si smelaglie Bravo Lisa Oh, holy fuck Allora Ti dai l'ultima No Perché l'hai buttata sotto torre Per dargli una tua attacca In 7 secondi 80 Guarda quell'Elze Mamma mia Perché giochi a sto gioco Ecco fatto Tu dai una tua attacca Ogni 10 secondi Almeno non l'ha nulla Ah Ah Nel questo video Voglio Video Video Vedo video Ragazzi Voglio dare anche un altro consiglio A 15 Se può surrendare Se vede che questi Ragazzi che abbiamo contro Non hanno mai Non lo sanno Non hanno mai visto un video Dove consigliano De surrendare A 15 In queste situazioni E' così Mean Starsky Non mi possono vincere L'ora Si A parte c'è stato voi due E' vero Me ne ho scordato Scusi Esatto Guarda Xinsa come viene da sopra Mi faccio Xinsa Sorpresa Ah te ne vai Dai io aspetto Xinsa Vai Ah Io devo rifà Il dicevo di prima No perché Ho fatto lei Bombasia Oh Ho la combo Ho la combo Bombasia Guarda 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 Che pena Sai bene No E banni Farma In tranquillità Ero Aff Lo sono anche adesso Vai vai Mena Spamma la E Bravo Ma dammi che hai fatto C'è la E senza CD Se sta sotto veleno Quindi non ti serve neanche Tiri una spell E una volta che sta venendo Ti rely a CD E fatti il rely Qualsiasi me lì Non ti può più fare niente Vabbè ti venga a salvare Mi sento buono No no Ti devi salvare solo me No quello se gira Fanno ulti E sei morto C'è Ciao Bye Vabbè Troppo gridi Vabbè me l'ha messo La vita giusta E poi per la bombasia Ora io lo spavento E te ne ho un ribombasia Oh Oh Mamma mia Scappa Scappa Vedi E poi lasciano Quello grande E giunga ogni volta Te lascio un minion Perché mi fai bene Grazie Starsky Che bravo C'ho il bombasia No Smidete me In effetti Non stavo messi così bene Da poter fare figli Da qua Si capisce Chi è la pussy E chi no Cioè Chi è scappato E chi sta Non so scappato Sono andato a comprare un oggetto Per sderenar roccioso Hai pure detto Non siamo messi così bene A poter fare Ste cose Appunto Eh appunto Senti Favo c'è qua il vile Mauvi è qua Il vile bau Tanto quelli stanno addormiti Beh questi Boh Stanno in base A far succedere Da ban Eh ma Devi stare attento Oddio 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 Ho appena Sorrendiamo Noi mi fanno pena Per favore Daria l'ultiet Dezzo Ha sbagliato l'ultiet Ma Eh si ma ok Malfile Ma proprio Dei 100 metri Scapparsi qua Anzi Puscia Quindi Malfatto è stato Lotte Sì Penoso Invece che Roccioso Mo dice Malfile Penoso Ben lì Entra In base Ammazzagli Potremmo rifarlo No no Dopo lo faccio Poi ce fa Moxin Noo Non vale È perché Non è orlato Bombasia È bello se L'ultavi in base Oddio Siamo morti Oddio Che culo Mi ha preso Nel culo Proprio Nella punta del culo Mi ha preso Noo Vai Banni Ci devi tutti Banni però devi parlare Se no ci annoiamo Noi qua Ma voglia Sarà roccioso Però C'ha 4 super minion Controversare No non è più roccioso Adesso Guarda Ah è penoso È vero È penoso Ce la fanno Abbiamo abbastanza Sì perché è tornato Sin eccetera Esatto Guarda che stanno Continuando Wave De loro Sono felse De loro Sono morto I rocci Stanno Nascoste pure Le loro Guarda guarda Regà Guarda Qua non c'è Dà vittoria Se non sei Vinceremo così Adai E' million Mamia Regà Entro in base E questi Guarda Guarda Penoso No È vivo Guarda Penoso Valtra Corsa No no Fermiamoci Tutti lì Fermiamoci Tutti lì A guardarli No BAMBOSIA Perché Ma vai Starsky Rovini il divertimento Tutte le cose Smite Avanti un altro E non so Mono Bonolis Via qua Via qua Roccioso Avanti un altro E non sono Paolo Gigi Il primo game Della season 5 Finisce qui Ragazzi Tra una cazzata E l'altra E penoso È finita così Che bello Là Loro T man T man B Stop